Nei pezzi di Alessandro Solbiati si può avere la percezione di tante cose, ma una è sempre molto nitida, c'è un senso anche di fiducia nella musica, nell'arte, nella possibilità di esprimersi, nel desiderio di rappresentare un mondo che non è forse così malvagio, non lo so, sono impressioni che da ascoltatore mi arrivano a pelle, non c'è nulla di scientifico a quello che sto dicendo. Io ho un'immensa fiducia in realtà, nella capacità della musica di ogni epoca, di ogni tempo, del passato, presente e futuro, di vincolare un'intensità espressiva, forte espressiva, eccetera, eccetera, laddove esiste nel compositore una forte necessità interna.